Boomerang, l'esperimento su pallone che ho guidato in collaborazione con un gran numero di persone, una quarantina di persone alla fine, per studiare, per fare un'immagine dell'universo primordiale, la prima immagine dettagliata in cui si vedeva come era fatto l'universo circa 14 miliardi di anni fa. E questa immagine era sufficientemente nitida da far vedere delle protostrutture, oggetti che per la prima volta si stavano formando nell'universo, dei quali abbiamo potuto misurare le dimensioni e dalle dimensioni, confrontando con la teoria, stabilire il tipo di geometria che ha il nostro universo. Quindi da questo punto di vista è stato un passo avanti molto importante perché nonostante ci fossero indicazioni per una geometria euclidea, solo dopo l'esperimento Boomerang è stato possibile dirlo con buona certezza.